No, questi se ne vanno a dormire, Lory. Stai studiando, Lory. Le hann, ho letto questa parte, vedi? Qui dice che ci sono i galleggianti con due anellini, in modo tale che può scorrere sulla lenza. E dice che devi mettere un nodino di nana per fermare lo scorrimento. Vedi? Forse è quell'oggettino che ci dà la signora ogni volta. Poi vedi, c'è questo meccanismo che serve per incagliare la canna dentro la sabbia, vedi? Si chiama il puntale. Lo inserisci nella parte di sotto della canna. Poi c'è lo starlight, ho scoperto che è una lucina che la metti sul galleggianti e serve per la pesca nozzurna. Ah, starlight, certo, la pesca nozzurna. Poi è scoperto che la metti sul galleggianti, comprata la mamma, si chiama filaccione. Solo che dice che devi sciogliere tipo di 30 metri la lenza.